La prefettura di Agrigento ha emesso oggi due nuovi provvedimenti di informazione antimafia interdittiva nei confronti di due ditte che, di fatto, erano gestite da Marco Campione, ex leader di Girgentiacque S.p.A. Si tratta della Giuseppe Campione S.p.A. e della Giuseppe Campione di Michele e Fratelli S.n.c., che è di fatto la cassaforte dell'intero gruppo Campione. Le interdittive antimafia, quindi, colpiscono nuovamente e duramente l'imprenditore Marco Campione, a distanza di due anni dalla prima interdittiva antimafia che era stata emessa dall'allora prefetto di Agrigento Dario Caputo e a distanza di pochi giorni dal provvedimento di sequestro dei beni per 20 milioni di euro emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo. Anche in questo caso la richiesta unanime di interdittiva che era stata presentata al prefetto delle forze di polizia della provincia si fondava in larga parte dell'articolato materiale probatorio raccolto nel procedimento penale a Waterloo, attualmente in trattazione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare di Agrigento. I magistrati, dunque, stanno continuando a smontare, pezzo dopo pezzo, l'impero economico di Marco Campione e del suo gruppo, accendendo i riflettori e le lenti di ingrandimento su bilanci, documenti, rapporti finanziari, scritture contabili, con l'obiettivo di spiegare la clamorosa ascesa economica dell'imprenditore, il suo modus operandi, le attività intrinseche alla Girgenti Acqua S.p.A., oggi dichiarata fallita, provando a capire, allo stesso tempo ed inchiesta alla mano, se l'impero economico dei Campione sia stato costruito su basi illecite o, come sospettano i magistrati, su basi illecite. Il recente sequestro di beni per 20 milioni di euro, come si ricorderà, ha riguardato due società e la partecipazione in ulteriori sei società, tra le quali proprio Girgenti Acque, 9 immobili, 26 beni mobili e 38 rapporti finanziari, su provvedimento eseguito dalla DIA, su disposizione del Tribunale di Palermo e del procuratore della Repubblica di Agrigento, facente funzioni, Salvatore Vella.